Ok, buon pomeriggio a tutti, sono Michele di AllNet Italia, benvenuti a questo webinar, webinar in italiano organizzato da AllNet Italia e RF Elements, AllNet Italia come distributore appunto dei prodotti RF Elements e il webinar di oggi è dedicato alle persone, a coloro che già conoscono i prodotti di RF Elements, in particolare le symmetrical horn, le antenne di RF Elements, sono antenne a tromba in italiano e in questo webinar verranno mostrate alcune applicazioni che possono essere interessanti per questa tecnologia, quindi verrà un po' spiegato come andare a sfruttare al meglio tutte le particolari caratteristiche di questa antenna e verranno inoltre delineate alcune linee guida per effettuare una migrazione con successo da una rete punto-multipunto effettuata con settori tradizionali, antenne settoriali classiche a una rete punto-multipunto effettuata invece con antenne di tipo horn. Al termine di questa presentazione avrete sicuramente il tempo di fare qualche domanda, potrete quindi intervenire quando volete, potete scrivere nella chat che trovate alla vostra destra, al termine ci prenderemo 5-6 minuti per poter rispondere a qualcuna delle vostre domande, se non faremo in tempo potremo sempre risentirci in un secondo tempo, potete contattare anche direttamente RF Elements che penseranno loro a rigirarmi le vostre domande. Le antenne di tipo horn sono ormai in commercio, sono state messe in commercio da RF Elements circa tre anni fa. In questi anni sono state raccolte differenti feedback, feedback che sono stati raccolti dai vari canali social, dalla pagina di Facebook, dalla community di RF Elements. Alcuni feedback sono arrivati direttamente appunto dai distributori, che sono un po' un collettore di feedback in merito alle applicazioni dei clienti. E oltre a storie di successo che hanno quindi portato a delineare appunto le linee guida di cui parleremo oggi, sono stati anche un po' catalogati le varie categorie di persone che invece hanno avuto alcuni problemi. Ci sono infatti alcune persone che hanno testato, hanno conosciuto i benefici che possono dare questa tipologia di antenne, ma non sanno bene da dove iniziare per poter applicare e utilizzarle con successo. C'è chi invece magari le ha montate su alcune piccole soluzioni, ma non ha ben capito come far migrare le reti che già ha, delle reti punto-multipunto che ha già, e da l'utilizzazione di appunto di antenne settoriali classiche ad antenne di tipo ORN. C'è chi invece le ha testate e magari non ha ottenuto i risultati che si aspettava, questo perché magari non ha ben capito come andare a sfruttare al meglio le caratteristiche di queste antenne. Infine c'è chi invece è totalmente perso, cioè non riesce proprio a capire dove andare a installare queste antenne, perché farlo e come farlo, cioè a cosa possono servire sostanzialmente. Per migrare con successo a questa nuova tecnologia, bisogna sicuramente basarsi sui feedback, sui best practices, cioè le linee guida già delineate da chi è riuscito a utilizzarle con successo, per poter appunto prendere spunto e capire bene come andare a dare quei miglioramenti che sono riusciti loro ad ottenere anche nella nostra rete. Sicuramente cosa migliore da fare sempre è quella di fare un attimo il punto della situazione e cercare di capire quali problemi abbiamo e come risolverli. Quindi abbiamo la nostra rete, funziona, però ho alcuni problemi. Per poterli risolvere devo prima capirli e poi capire come utilizzare le antenne ORN per migliorare il tutto. Cosa molto importante è anche sicuramente capire come è messo lo spettro elettromagnetico nella zona in cui voglio installare le mie antenne. Questo è buona norma sempre quando si fa una rete punto-multipunto, sicuramente quando poi si vuole introdurre una nuova tecnologia bisogna capire e conoscere lo spettro. Lo spettro che a 5 GHz, banda dove probabilmente sapete comunque lavorano questi tipi di antenne, è sovraffollata, è utilizzata ormai sempre di più, in maniera anche non sempre corretta e quindi è veramente molto difficile andare a trovare canali liberi. Per questo motivo uno dei principali consigli, questo da sempre di RFL, è quello di utilizzare in modo saggio quei pochi canali che ci restano, perché andare ad usare e ad abusare di questa risorsa può anche ripercuotersi negativamente sulle nostre reti nelle vicinanze o comunque nelle reti degli altri. In questa presentazione, in questo webinar, verranno esposti due principali metodologie di migrazione alle antenne ORN. Una prima, il metodo numero uno, nel quale si hanno reti punto-multipunto in cui vengono utilizzati in maniera ibrida antenne di tipo ORN e antenne invece classiche. Una seconda nella quale invece si costruiscono nuove torri totalmente, sicuramente si costruiscono, si vanno a installare radio su delle torri e si vanno a utilizzare completamente antenne ORN, symmetrical ORN. Sicuramente la seconda metodologia è quella che può portare dei benefici maggiori. Andremo poi a vedere il perché e come. Infine si trarranno alcune conclusioni appunto su queste due metodologie di utilizzazione. In generale comunque in queste slide verranno presentate alcuni esempi, alcuni esempi che possono essere da spunto per le vostre future applicazioni. Chiaramente non prendiamo magari nel dettaglio il numero esatto di puntini che vengono disegnati sulle immagini. Cosa fondamentale da capire è quello che questa slide ad esempio ci vuole significare. Vediamo che in questa slide sono rappresentati quattro settori classici magari posizionati su una torre, su un palo, su un'abitazione che coprono quindi 360 gradi. Uno dei quattro settori, quello in alto, è un settore particolarmente affollato. Vediamo quindi che i client che sono collegati a questo settore avranno probabilmente delle prestazioni in medio-basse. In questi casi è buona norma chiaramente andare a cercare di suddividere questo settore in tre settori più piccoli. Facendo quindi, dando quindi un miglioramento, andando a suddividere quindi il numero totale dei client su tre diverse radio e apportando quindi dei benefici a tutti loro. In questo modo la Chesspoint sono meno impegnati a dover dare il servizio a più client e i client possono avere in media un segnale più alto e delle performance più alte. Questa è un'applicazione classica che si può fare sempre. Chiaramente con le antenne di tipo Horn, appunto se le conoscete, sono antenne che non hanno lobby secondarie e quindi vi permettono di farlo in maniera molto agevole quindi introducendo tre antenne settoriali nello stesso punto senza andare a dare alcun fastidio a tutte le altre tre radio che continuano a funzionare e ad essere installate le altre tre settori da 90 gradi. Questa è un'applicazione che vi dà una pre-raid alla vostra rete va a migliorare le performance della rete. Quindi questo tipo di soluzione è una soluzione molto ben funzionante con le antenne di tipo Horn proprio per i loro lobby secondari assenti. Quando però si va a installare un'antenna di tipo Horn bisogna fare attenzione alle sue caratteristiche, bisogna conoscere le sue caratteristiche. Non si può pretendere di andare a togliere un'antenna settoriale classica e riposizionare nello stesso identico modo un'antenna di tipo Horn. In questo caso infatti, è un caso chiaramente estremo, però ci sono tre client che sono collegati addirittura ai backlob della nostra antenna, del nostro settore classico. In questo caso, l'avere i lobby secondari è un beneficio, raramente è così, però può succedere. Può succedere che alcuni client siano collegati ai lobby secondari. Bisogna sempre tenere a mente che lo spettro delle antenne Horn è... lo spettro, scusatemi, il diagramma di radiazione dell'antenna Horn è molto differente. Non ha lobby secondari, quindi se per caso alcuni client sono collegati, ad esempio ai backlob, ai lobby che stanno dietro l'antenna, questi client saranno senza segnale e quindi non potranno lavorare. Questa slide sta un po' a racchiudere semplicemente l'idea che bisogna ben conoscere la differenza che c'è tra il diagramma di radiazione di queste antenne e quelle delle antenne tradizionali. Un consiglio da sempre fatto da RF Elements è quello di utilizzare l'antenna corretta per il proprio scopo. è inutile andare ad utilizzare antenne ad elevato guadagno o ad elevatissimo guadagno quando in realtà abbiamo magari un insieme di client che si trovano tutti nelle vicinanze. Questo perché si va, prima di tutto, si va, antenna ad alto guadagno significa che trasmette lontano, ma significa anche che sente lontano e quindi si va sicuramente a introdurre più interferenza ai nostri segnali ricevuti. Ma oltre a questo si va sicuramente a dare fastidio o ad altre nostre torri, perché magari nelle vicinanze abbiamo delle altre torri di diffusione del nostro segnale o comunque a qualcun altro. L'utilizzo di antenne sovradimensionate è un po' il problema, è un po' il difetto, è un po' la causa dell'interferenza che ormai si sente ovunque, anche nei posti più sperduti si sente interferenza, proprio perché molto spesso viene utilizzata una potenza più alta del dovuto e un guadagno più alto del dovuto. Quindi in certi casi un'antenna di tipo horn può essere un'antenna che va a raggiungere correttamente tutti i nostri client, ma non va molto più in là dove appunto magari il segnale non ci serve. Molto spesso quando si hanno client posizionati alcuni molto lontani e alcuni molto vicini, come magari nell'immagine a sinistra, può succedere di dover utilizzare due settori posizionati sullo stesso angolo di apertura ma inclinati, tiltati, in maniera differente. È l'esempio a sinistra dove ci sono due antenne da 90 gradi che sono, entrambe vanno a coprire lo stesso settore, solo che una è poco tiltata per raggiungere i client più lontani e una invece è un po' più tiltata per poter raggiungere i client che si trovano subito sotto. Uno dei vantaggi di RF Elements è quello di poter innanzitutto andare a posizionare più settori uno vicino all'altro, uno accanto all'altro senza che tra di loro si diano alcun tipo di fastidio. E infatti nell'esempio adesso vi fa vedere come volendo si possono mettere tre settori da 30 gradi tiltati ciascuno in maniera differente. Quindi vai a personalizzare ancora di più la tua copertura di rete grazie appunto alla grande scalabilità di questi prodotti. oppure come nell'immagine al centro questa è un'immagine molto simile a quella di prima anche qui nell'immagine a sinistra vengono usati due settori per coprire lo stessa area semplicemente perché due sono tiltati in maniera una differente dall'altra perché come sapete i settori tradizionali hanno un diagramma di radiazione sul piano verticale molto stretto e quindi è necessario per raggiungere i client subito sotto inclinarle molto le antenne mentre nell'immagine del centro al centro invece viene utilizzato un unico settore da 90 gradi per raccogliere tutti quanti questo perché essendo le symmetrical horn antenne con di rama di radiazione simmetrico aprono in orizzontale e in verticale 90 gradi per questo motivo è facile andare a collegare ad agganciare subito client client che si trovano magari subito sotto la torre o comunque molto vicini diciamo che la zona d'ombra la zona che non è coperta dall'antenna subito sotto l'antenna è veramente molto piccola per questo è facile quindi utilizzare un'unica antenna ad esempio in quest'area per tutta quest'area da 90 gradi è vero che però il numero di client è molto alto per un unico base station e allora si può tranquillamente come nell'immagine a destra andare ad utilizzare tre settori da 30 come dicevo prima e come ripeto questi tre settori tra di loro non si daranno alcun fastidio una rete bilanciata è una rete felice cosa significa? significa che effettivamente quando si ha una rete punto multipunto e si hanno alcuni client che magari sono messi molto bene hanno un buon segnale riescono ad andare a dialogare molto velocemente con l'access point e poi si hanno dei punti periferici magari un po' nascosti o semplicemente che si trovano a bordo del settore che invece hanno un segnale molto più basso si viene a creare una rete sbilanciata quindi si hanno come mostrato in questa slide i punti periferici che utilizzano un MCS basso quindi una modulazione bassa e punti centrali dove invece il segnale è alto che riescono a lavorare la modulazione 9 ad esempio la modulazione massima in questo caso in questo caso qui la CPU deve lavorare dell'access point deve lavorare molto perché deve dialogare con client diversi a modulazioni differenti e questo va a sovraccaricare la CPU e in più globalmente si ha un degrado delle prestazioni perché quando si hanno dei client che non sono messi molto bene a livello di segnale ricevuto danno un impatto negativo sull'intera efficienza sull'intera performance globali della rete per questo motivo andare in questi casi quando si trova questo tipo di disparità tra i client andare a sostituire l'antenna con un'antenna ORN porta dei benefici globali proprio perché riesce a dare un segnale costante a ciascun client collegato magari la modulazione sarà leggermente più bassa ma globalmente sarà uniforme questa è un'altra caratteristica dell'antenna ORN che il guadagno è costante su tutti i 90 gradi ad esempio in questo caso e in questo modo si va a liberare la CPU che deve dialogare sempre con la stessa modulazione e si vanno a migliorare le performance globali della rete come dicevo prima è importante conoscere la tecnologia che stiamo utilizzando questa non è un'antenna classica e quindi funziona in modo diverso va tiltata ad esempio in modo diverso è molto importante il tilt l'antenna cioè come quanto inclinare di quanti gradi andare ad inclinare l'antenna come dicevo prima nelle antenne settoriali classiche perché il diagramma di radiazione sul piano verticale è molto molto stretto per questo motivo è molto difficile andare a raggiungere i client subito sotto perché se si inchilina troppo si perde troppo in distanza e viceversa oppure se si vuole raggiungere un client distante si rischia di non andare a prendere i client che si trovano subito sotto l'antenna con RF elements con le antenne horn questo non succede è molto diverso come potete vedere qui vi fa vedere come varia il guadagno di antenna sull'orizzonte in questo slide al variare del tilt l'antenna in questo caso è stato utilizzato un'antenna da 30 gradi horn che ha nel suo massimo un 18 dpi di guadagno e vi fa vedere come sull'orizzonte cambi il cambiare del tilt l'antenna quindi adesso è difficile andare a fare un caso specifico tenete però presente proprio questa slide è molto importante per capire come effettivamente in verticale funziona questa antenna perché inclinarla troppo può dare dei problemi quando magari non ce n'è bisogno spesso magari per istinto quando si va a installare un'antenna di questo tipo si va magari a inclinare molto l'antenna perché si vuole raggiungere dei client che si trovano subito sotto senza pensare che in realtà aprendo molto in verticale probabilmente anche inclinandola molto poco si riesce a raggiungerla e questo perché poi inclinarla troppo ci fa perdere troppo in distanza ed è questo l'esempio di chi magari l'ha provata e magari si ha riscontrato di non aver raggiunto distanze molto alte o magari ha lamentato proprio questa problematica nell'utilizzo di queste antenne andiamo ora a vedere qualche applicazione in soluzioni ibride come dicevo prima vengono delineate qua alcuni metodi di migrazione o comunque alcuni metodi di utilizzazione di queste antenne partendo appunto da una metodologia ibrida nella metodologia ibrida quindi si hanno reti già esistenti con antenne settoriale classiche e si vanno ad aggiungere ORN uno o più antenne ORN proprio sulla stessa torre per ottenere dei particolari benefici nel primo esempio si andrà a vedere come si possono utilizzare per andare a migliorare le performance di una rete sovraccarica di client o comunque quando si vuole dare delle performance in più ai client che già ho sulla mia rete oppure nel secondo esempio si andrà a vedere come utilizzare magari dei settori piccoli che aprono molto non so se sapete RF Filaments ha a catalogo sette tipologie di antenne che vanno dai 30 ai 90 gradi le antenne che aprono meno quindi ad esempio l'antenna da 30 gradi di apertura è un'antenna più grande rispetto all'antenna da 90 gradi che invece risulta un'antenna molto più piccola in livello di dimensioni quindi come utilizzare dicevo nel secondo esempio piccole antenne che aprono molto come ad esempio il settore da 90 gradi per andare a migliorare le performance dei client che si trovano subito sotto l'antenna o viceversa nel terzo esempio si vedrà come utilizzarle invece per andare a migliorare le performance a un settorino un piccolo settore di client che si trova magari a lunga distanza utilizzando un'antenna un po' più grande da 30 gradi ad esempio nel quarto esempio verrà mostrato come poter utilizzare queste antenne magari per andare a dare dei pacchetti speciali ad alcuni client che possono essere i client business della nostra rete e infine come utilizzarle invece per andare a migliorare quelle piccole fette di aree che non riescono ad essere coperte bene dalla nostra rete già esistente e che si trovano solitamente nei bordi dei settori esistenti allora partiamo quindi dal primo esempio abbiamo una rete anche qui quattro settori da 90 abbiamo due settori particolarmente carichi dove appunto lo throughput globale risulta abbastanza basso l'idea è quella di andare a posizionare due antenne di tipo horn sovrapposte a questi settori in modo da agganciare una parte dei client su di loro e andare quindi a liberare a sovraccaricare i due settori quello in alto e quello a destra in questo modo si può fare quello che avevamo visto all'inizio una sorta di network upgrade quindi un miglioramento delle performance globali della rete semplicemente posizionando due settori nel secondo esempio viene invece mostrato come se abbiamo magari una rete invece dove abbiamo la maggior parte dei client che si trovano magari subito sotto l'antenna e poi abbiamo qualche sporadico client un po' distante a questo punto invece è possibile pensabile anche utilizzare magari un settore largo piccolo piccolo a livello di dimensioni perché l'antenna è piccola quella da 90 gradi ad esempio ma largo a livello di apertura sul piano orizzontale e verticale in questo caso usa appunto l'antenna da 90 gradi è possibile quindi agganciare quei client che si trovano subito vicino alla torre con questo settore e poi lasciare gli altri connessi al settore più grande che già è resistente prima in questo modo quindi si va a sovraccaricare ancora una volta la mia base station e si vanno a migliorare le performance globali della rete un altro esempio può invece essere l'utilizzo di un'antenna settoriale più grande a livello di dimensioni fisiche ma che trasmette un lobo che ha un lobo principale più stretto e che può arrivare quindi anche più lontano come ad esempio l'antenna da 30 gradi in questo caso abbiamo una piccola fetta di client che si trova in questo caso in alto a destra particolarmente densa e allora si va un attimo a sovraccaricare la base station andando a collegare questa fetta di client all'antenna horn ok in questo esempio invece viene mostrato come sia possibile comunque fare più o meno la stessa cosa però per dare a un numero distretto di client un servizio business ad esempio o comunque questo chiaramente è dedicato a chi è un operatore chi quindi sta diffondendo la connettività per poter dare un servizio a pagamento a questi clienti che stanno quindi pagando probabilmente un canone e in questo caso si può pensare a dare magari un servizio dedicato a aziende o servizi o grandi clienti un servizio dedicato ad alte performance solo e soltanto per quei pochi client che hanno questo tipo di canone è un'idea e si può usare anche in questa modalità sempre ad esempio in questo caso viene usato un'antenna a 30 gradi per aggiungere in maniera in maniera selettiva proprio quei 4 o 5 client che hanno questo tipo di contratto oppure il problema principale di tutte le reti punto multipunto sono i limiti i bordi dei nostri settori nei bordi dei settori chiaramente solitamente si ha prima di tutto un degrado del guadagno di antenna e in più si possono avere anche delle zone vuote possiamo vedere come tracciando una X passante per il punto centrale si può vedere come questi client abbiano dei bassi segnali un po' in tutti appunto in tutti questi settori medio-bassi segnali l'idea è quella di andare a introdurre le antenne OR proprio in queste fette in queste aree andando quindi a migliorare le loro performance e quindi comunque anche le performance globali della rete chiaramente fino adesso abbiamo parlato di possibili applicazioni queste applicazioni però non sono tutto cioè chiaramente non le si può fare è vero che non hanno lobby secondari queste antenne quindi è molto facile andare a installare un'antenna a fianco all'altra o delle antenne dove ce ne sono già altre di esistenti però è anche vero che i canali non sono infiniti abbiamo detto prima la banda 5 GHz è sovrappopolata e sovrautilizzata per questo motivo è difficile andare a trovare così tanti canali da poter avere così tante base station anche sovrapposte l'una con l'altra per questo motivo il consiglio qual è di RF Elements beh non ci sono abbastanza canali se vediamo l'immagine a sinistra in un'immagine di questo tipo dovremmo avere almeno tre canali liberi da 40 MHz immagino però almeno tre canali liberi e non è sempre facile trovare tre canali liberi nella stessa torre sulla stessa torre nello stesso luogo perché ad esempio i quattro settori non avrà da 90 immagino che stiano utilizzando un'alternanza di canali ABAB quindi le due radio che sono una schiena con l'altra usano lo stesso canale e poi ci vorrebbe un terzo canale per andare ad utilizzare i settori da 30 gradi a volte è possibile a volte non ci sono abbastanza canali il consiglio di RF Elements qual è? quello di andare a sostituire le antenne settoriali da 90 gradi con antenne di tipo horn non è mai consigliabile utilizzare due settori uno adiacente all'altro sullo stesso canale però ad esempio nell'immagine a destra si può potenzialmente andare a collegare tutti i client utilizzando soltanto due canali si danno così poco fastidio l'una con l'altra queste antenne che con soli due canali otteniamo quello che a sinistra eravamo costretti ad ottenere soltanto utilizzando tre canali e infine andiamo a vedere una metodologia quella migliore quella che ci può dare un po' le performance migliori che è quella nella quale si vengono a costruire installare dispositivi suonatori tutti con antenne di tipo horn in questo caso verranno mostrati semplicemente due esempi nel primo si avranno coperture uniformi con un caso da 4 settori da 90 6 settori da 60 fino anche a 12 settori da 30 gradi e poi vi verrà mostrato come invece sia possibile personalizzare al meglio la propria rete in base alle proprie esigenze andiamo a vedere il primo esempio sono esempi molto semplici chiaramente difficile dire qual è il vostro caso di volta in volta bisognerà andare a pensare a come andare a coprire il meglio la nostra area però la grande varietà di come dicevo prima sono sette diverse antenne la grande varietà di antenne mi permette di fare una una soluzione uniforme come questa o addirittura personalizzata come invece questa chiaramente non è che abbiamo sempre client tutti alla stessa distanza perfettamente orientati su 360 gradi a volte avremo aree più dense e aree meno dense e quindi la la grande la grande scalabilità che ci permette questo questo tipo di prodotto ci può fare coprire la nostra area nel migliore dei modi in questo caso ad esempio è stata scelta una soluzione con settori di diverso tipo a sinistra in basso a sinistra vediamo c'è quello viola c'è un settore da 90 gradi perché lì in quel caso non avevamo client molto lontani in alto a destra dove invece l'area è molto più densa di client sono stati utilizzati settori da 30 gradi come dicevamo prima il fatto di poter usare tantissimi fino anche a 12 settori sullo stesso attore è dovuto è dovuto a la caratteristica principale più importante di queste antenne cioè che non hanno lobby secondari e quindi tra di loro nella torre non si danno fastidio quello che poi vi può anche permettere è una crescita diciamo ponderata della vostra rete si inizia magari con pochi client si possono usare magari 4 settori da 90 poi pian piano se ne può sostituire con l'avvento di nuovi clienti si può andare a sostituire le antenne semplicemente con antenne più o meno strette andando poi magari a utilizzare i settori da 90 in altre soluzioni in cui vi può essere utile diciamo che questa è un po' tutta la la grande l'altra l'altra grande caratteristica di questa antenne la grande forza è la personalizzazione su delle nostre reti come meglio come meglio necessitiamo quindi in conclusione è sempre bene andare a utilizzare l'antenna horn corretta delle dimensioni corrette per in base all'area che devo andare a coprire è importante quindi capire che se ho dei client molto vicini può essere comodo andare ad utilizzare una delle antenne più piccole quelle che aprono di più come ad esempio quelle da 90 da 80 gradi mentre se devo andare a collegare dei client densi molto vicini l'uno con l'altro magari anche un po' distanti è bene andare ad usare antenne da 30 gradi per questo motivo è molto importante sapere dove sono i nostri clienti e quindi fare una mappa mentale o comunque anche fisica di come sono posizionati i vari client non sempre possono essere clienti di un operatore wireless possono anche essere magari postazioni telecamere ad esempio magari si deve fare in una rete di video sorveglianza e si vuole decidere bene come personalizzare la propria rete prima di tutto magari con un bello schema si può andare a vedere dove sono posizionati i client per poi andare a scegliere un'antenna più corretta è molto importante utilizzare in maniera saggia il tilt di antenna non sono queste antenne come le antenne classiche i settori tradizionali e quindi il tilt di antenna va utilizzato in modo differente è quindi importante capire bene il funzionamento di questa antenna per poterla utilizzare al meglio cercare di avere una rete il più bilanciata possibile cercare di servire i client con lo stesso segnale il più possibile con un segnale più simile possibile l'uno con l'altro utilizzando le antenne ORN questo lo si può ottenere molto facilmente e se è possibile non utilizzare soluzioni ibride prima l'abbiamo visto abbiamo visto vari esempi perché a volte non si può né stravolgere la propria rete per questioni di investimento economico o per comunque molte altre questioni non si può magari andare a rivoluzionare la rete però e quindi capisco che a volte sia necessario andare ad utilizzare una soluzione ibrida però il consiglio è quello di se è possibile una volta che si è conosciuto bene il prodotto andare a creare un attore totalmente con antenne ORN anche perché in questo modo siamo sicuri che le radio tra di loro non si interferiranno e poi pianificare prima di installare chiaramente bisogna fare come abbiamo già detto anche prima un piano cercare di capire bene dove sono i client le aree che devo ricoprire per poi andare a scegliere il modello di antenna che meglio si addice alla mia soluzione trovate numerosi modi per avere informazioni sui vari prodotti RF Elements RF Elements è una comunità molto attiva la trovate sul sito www.rflab.com potete iscrivervi già subito trovate numerosi feedback numerose domande numerose risposte anche sono veramente molto attivi nel rispondere e quindi per qualsiasi domanda potete fare riferimento a questa community potete comunque andare anche a visitare il loro canale youtube e tutti i social in generale sono trovate tantissime informazioni anche lì tantissimi feedback tantissimi esempi di installazioni case history e cose di questo tipo e potete chiaramente anche contattare net italia per qualsiasi informazione come dicevo io sono Michele e potete chiedere di me ma potrà aiutarvi sicuramente anche qualcun altro e se c'è quindi qualche domanda vi invito a o non abbiamo coperto alcune delle vostre curiosità con questo webinar vi invito comunque a contattarci vediamo ora se c'è qualche domanda ok non vedo domande quindi direi che avete comunque tutti i contatti nel caso in cui vi venga in mente qualche qualche domanda successivamente o in questi giorni e vi ringrazio per aver seguito questo webinar e buona serata e ciao